Benvenuto! Oggi siamo in Via Aldomoro, in una zona tranquillissima di Vezzano sul Crostolo. Ti voglio presentare questa villetta schiera con giardino, che al momento è in uno stato di grezzo avanzato, però con il capitolato verrà consegnata chiave in mano il giorno del rogito. Andiamola a vedere! L'immobile è distribuito su tre livelli. Al piano terra abbiamo un ingresso pedonale che passa per il giardino e porta alla zona giorno, composta con cucina e sala open space, antibagno e bagno. Al piano primo invece abbiamo tre camere da letto e un bagno. Al piano seminterrato troviamo la zona dei servizi, che è internamente collegata con il resto dell'abitazione. È composta da garage e una cantina molto spaziosa, ed è inoltre presente un cortile pavimentato di proprietà. Vi ricordo che l'immobile verrà consegnato, ultimato e in classe A, e sarà accessoriato di riscaldamento a pavimento e per disposizione per l'aria condizionata. Vi saluto dal giardino della casa, che come potete vedere gode di questa bellissima vista sulle nostre colline matildiche. Per fissare la tua visita privata puoi contattarci ai numeri qua sotto o venirci a trovare in agenzia. A presto! Grazie a tutti!